Un progetto che parte da lontano e che si può concretizzare entro l'estate. Salerno si prepara alla sfida per rendere davvero operativo l'aeroporto. Da settimane in campo il percorso che porterà al matrimonio tra il Costa d'Amalfi e Capodichino. Si stanno definendo i dettagli tecnici con GESAC, ma ormai la rotta è tracciata. Obiettivo ha sottolineato il Presidente e la Giunta regionale in queste ore raggiungere quota 3 milioni e mezzo di passeggeri nell'arco di un decennio. Una sfida non facile, ma che per il Presidente e la Commissione regionale trasporti Luca Cascone è di fondamentale importanza, insieme a tutti gli altri progetti che Palazzo Santa Lucia metterà a disposizione dei comuni. I primi due anni della regione campagna sono stati necessari per recuperare amministrativamente un disastro grandissimo. Siamo riusciti a recuperare e a programmare risorse importanti e vere. Quindi sottolineo che sono risorse concrete, disponibili, sia per quelle indicate per Salerno con oltre un miliardo di euro di investimenti tra infrastrutture, università, di porto e quant'altro. I comuni devono solo farsi trovare pronti perché noi finanzieremo i progetti esecutivi e canterabili, quindi l'invito principale è che i comuni possano in questi mesi, prima che esca il bando, predisporre tutti gli atti affinché noi possiamo veramente spendere queste risorse e quindi far crescere l'economia del nostro territorio. Un focus particolare è stato dedicato dal Governatore in queste ore anche e soprattutto all'aeroporto il Costa d'Amalfi che è pronto ormai al matrimonio con Napoli, obiettivo è insomma far rinascere, far decollare letteralmente lo scalo. Siamo alle battute finali di un progetto lungo, che è partito da lontano, è chiaro che abbiamo ancora da definire dei dettagli sia amministrativi che finanziari, ma noi confidiamo che per l'estate questo progetto si concretizzerà.